Un festival con divi come Al Pacino, Owen Wilson, Jennifer Aniston, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Edward Norton, ma anche un festival di ricerca con film legati al tema della guerra, della crisi, della letteratura. Sarà soprattutto questo la 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre. Tre i film italiani in concorso, Il giovane favoloso di Mario Martone con Elio Germano nel ruolo di Giacomo Leopardi, Anime neri di Francesco Munzi su una famiglia criminale calabrese e Hungry Arts di Saverio Costanzo, film a piccolo budget girato a New York con Alba Rockbacher. Molto atteso in concorso Pasolini di Abel Ferrara con Willem Dafoe e Riccardo Scamarcio. Nelle tre sezioni del festival verranno presentati 55 film provenienti da 40 paesi, 20 dei quali in concorso, 4 le pellicole americane e 4 quelle francesi. Tre grandi nomi spiccano Fatih Akin, Ramin Barani, Benoit Jaco. Il film d'apertura Birdman di Alejandro in Arrito con Michael Keaton. Ma sicuramente i film che faranno più discutere al festival sono due italiani non in concorso nella selezione ufficiale, la trattativa di Sabina Gozzanti sulla trattativa Stato-mafia e quello su Berlusconi di Franco Maresco, Berlusconi, una storia siciliana.